Cosa vuoi, papà? Voglio aggiungere un po' di cioccolato Cioccolato? Sì, sopra io ho i pulpi di... I pulpi di azzurbi? Sì E' buono, buono, buono Adesso passa E il papà cosa prende? Papi Lo so Io voglio il gelato e il cioccolato Sì, sopra i pulpi di pico e il cioccolato Sì, sopra il gelato e poi il cioccolato E poi i pulpi di blu E dopo cosa facciamo? Non lo so Andiamo a prendere la nave Grande 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 Con i cartoni Io e i doi Quella con i cartoni... come si chiamano i cartoni? Luny Tooth Luny Tooth E poi cosa c'è? Tom? Tom and Jerry E poi c'è Sam? Sam Sam E poi ci sono i nu I nu I nu I numer... Lotti Non ha capito? I numerotti Brava Sì 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 Lo guardiamo insieme vicino vicino col papà E poi cosa c'è ancora? Vediamo Vediamo La Pantera Rosa Rosa E cosa fa la Pantera Rosa? Si sta camminando Con i piedi così Rosa Rosa E come cammina? Vediamo, fai sul tavolo come cammina Oh, è vero Sì Dai saluta la mamma Dì ciao mamma Ciao mamma Vedi ci vediamo fra poco Fra poco Ah Saluta Melita Ciao Melita Ciao Melita Ah Ci vediamo? Dopo Quando? Quando? Quando Quando ci vediamo? Quando ci vediamo? Fai la brava Fai la brava Mi raccomando Mi raccomando Non fare cavolate Non fare Non fare Che cosa? Non fare cavolate Non fare cavolate Non fare cavolate Chi è la bambina più bella del mondo? Io Oh La bella della tutta la città del mondo La su 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 Oh Ma tu sei una piccola star allora Stara Chi è la bambina più dolce del mondo? Io Oh E chi è la bambina più intelligente della città? Io Sei tutto Sei tutto tu allora Tu sei tutto? Tu sei tutto? Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando E tu sei tutto? E tu sei tutto Una Uno Due Tre Wow!